Il convegno di Gabice è stato un momento molto importante. Uno perché abbiamo fatto il nuovo statuto e quindi con il notaio abbiamo legittimato il nuovo statuto secondo le nuove normative, che dà ovviamente una spinta verso il futuro all'associazione Fand. Il secondo motivo è perché c'è stata l'elezione del nuovo presidente, che a questo punto sarei io, che subentro al professor Albino Bottazzo. Ovviamente diciamo che ci sarà un cambio di visione, un cambio di gestione per quello che riguarda i progetti del futuro. Fondamentalmente potrei riassumerli in tre aspetti. Il primo che è un manifesto che abbiamo concepito qui proprio nelle Marche, perché le Marche per me è stato il mio laboratorio, è stato dove io sono cresciuto e dove mi sono formato. Abbiamo costruito questo manifesto che si chiama più territorio meno ospedale. Quello che noi dovremmo fare come Fand nazionale è quello di fare rete con le altre associazioni, perché anche qui c'è una certa diversificazione di associazionismo. E quindi creare un'unica rete nazionale perché saremmo più forti, più legittimati e più credibili da questo punto di vista. Poi il terzo aspetto che noi stiamo puntando moltissimo è la telemedicina. Diciamo che Covid ha messo in evidenza la difficoltà di poter raggiungere le persone con diabete, perché gli ospedali Covid sono stati chiusi, quindi le diabetologie sono inaccessibili alle persone con diabete. Questo ha comportato la sospensione di quella che è l'educazione terapeutica delle persone. Molte non si sono più curate, diciamo, quindi non potendo andare più in visita, avendo tutti gli esami rimandati e tutto quanto, le persone ovviamente in qualche modo sono rimaste chiuse, cioè il lockdown sono rimaste chiuse dentro quelle che sono le loro abitazioni e quindi hanno anche sospeso quelle che sono le attività di educazione, di formazione, di terapia e di continuità terapeutica. E il terzo elemento è quello dell'assistenza domiciliare integrata, cioè avere la possibilità di andare direttamente nelle case delle persone per poterle aiutare in questi momenti di grande difficoltà. Direi che poi abbiamo un ulteriore quarto punto, che è l'organizzazione della FAND. L'organizzazione della FAND, in qualche modo, che io intanto saluto tutti i vari consiglieri nazionali, che sono 20, con i quali dovremo collaborare in maniera diversa, perché io ho presentato un progetto, un programma nazionale e un po' tutti dovremo allinearci su questo programma nazionale. E chiedo il contributo a tutti i consulenti, a tutti i consiglieri nazionali di adeguarsi a questo nuovo programma.